Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In primo piano sempre l'emergenza sanitaria con la nuova ordinanza firmata ieri sera dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in particolare prevista l'aria apertura per lunedì delle scuole elementari. A Torre del Greco questa mattina le telecamere di TV City hanno raccolto i primi commenti e le reazioni dei cittadini alla nuova ordinanza. I torresi si dichiarano favorevoli ma temono nuove misure restrittive. Come sempre facciamo il punto della situazione contagi nella provincia di Napoli, casi in aumento a Torre del Greco e a Castellammare. A Portici positivo il sindaco Enzo Cuomo. Il mondo della scuola, questa mattina le telecamere di TV City sono state all'istituto comprensivo Giacomo Leopardi. La preside ha dichiarato ai nostri microfoni. La scuola in questo momento deve essere un punto di riferimento, una guida per famiglie ed alunni. In chiusura lo sport con la Turris, rinviato alle 18.30 il match per i Corallini a causa della positività di quattro giocatori della squadra avversaria. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Cresce la preoccupazione per l'aumento dei contagi da Covid-19. Nella giornata di ieri in campagna si sono registrati 1.312 casi positivi su 10.205 tamponi. In totale si contano 28.724 positività. Il presidente della regione campagna, Vincenzo De Luca, dopo il meeting tenutosi ieri con le organizzazioni sindacali delle scuole, ha espresso piena condivisione per le misure adottate per prevenire e contrastare l'emergenza. Per questo motivo, nella nuova ordinanza firmata dal governatore, si è deciso di avviare progetti finalizzati alla didattica in presenza per i bambini autistici o con disabilità e un orientamento alla riapertura delle attività in presenza delle scuole elementari dal lunedì 26 ottobre. Per quanto riguarda le altre decisioni relative alla prevenzione e al contrasto dell'epidemia, la regione ha chiesto al Ministro della Salute di disporre la sospensione di ogni attività dalle 23 alle 5 del mattino e degli spostamenti dalle 24, a partire dal prossimo fine settimana, sull'intero territorio regionale. Intanto è partita la corsa al vaccino per il Covid. In Italia è stato il Premier Conte, attraverso le dichiarazioni di ieri, ad aprire sulla possibilità di accedere ad una cura al virus. Già all'inizio di dicembre avremo i primi 2-3 milioni di dosi, ha fermato Conte. Altri milioni ci arriveranno subito dopo. La Commissione Europea ha incaricato alla società AstraZeneca e altre società la produzione di alcune centinaia di milioni di dosi. Penso che per contenere completamente la pandemia dovremo aspettare comunque la prossima primavera, ha concluso il Premier. Attura del Greco, i cittadini ribadiscono la mancanza di controlli sul territorio per il contenimento del contagio. Questa mattina le telecamere di TV City sono state nel centro storico della città, per accogliere i commenti e le reazioni riguardo alla nuova ordinanza del Governatore De Luca. Sicuramente i tempi non sono semplici né facili da affrontare, quindi se questa ordinanza può essere d'aiuto, io penso che sia giusto rispettarla. Solo con la collaborazione di tutti quanti possiamo superare questo momento così complicato, così complesso. E per quanto riguarda la gestione del mondo della scuola, cosa ne pensa dell'operato del Governatore? Guardi, la scuola di per sé è un luogo sicuro, ma l'ingresso e l'uscita sicuramente rappresentano un punto di aggregazione, perché tra i genitori e gli alunni è lì che si concentra maggiore affollamento, quindi è senza dubbio pericoloso questa attesa. Per cui io penso che in questo momento sia stato giusto chiudere, però mi auguro che superato questa emergenza così grave, si possa riaprire perché sicuramente la DAD non può assicurare un rapporto sereno con gli alunni. Io sono un'insegnante e quindi posso dire che è molto faticoso sia lavorare a distanza, perché i ragazzi non riescono ad entrare in un clima sereno di lavoro, quindi per noi è un grande sacrificio, però allo stesso tempo mi rendo conto del pericolo della malattia, quindi è un'emergenza su tutti i fronti. Cerchiamo di fare il possibile per superare. Io sono d'accordo perché ogni sicurezza che viene è sempre buona, per noi e per gli altri. Sappiamo che non possiamo andare in un'altra provincia, ma poc'anzi ci domandavamo, ma se io devo andare in un'altra regione non ho una risposta in merito. Poi per quanto riguarda la restrizione di tutto ciò che sta accadendo a me mi sta bene, mi dispiace comunque per i giovani che devono lavorare, avranno sicuramente le loro difficoltà, però è un momento negativo, insomma, ecco questo è quello che... Poi in seguito si vedrà, adesso sono confuso anch'io con questo, perché non posso conoscere il futuro, ciò che ci riserva il Covid. Adesso stiamo arrivando a un punto non ritorno. Io spero che De Luca finalmente sia sbagliato e di trenare però di non chiudere. diciamo, i ristoranti, i bar, di avere solo più attenzione, diciamo, lui deve dare la possibilità alle persone di sopravvivere a questo dramma che stiamo subendo, tutti quanti noi, e anche a livello economico, io, a livello che la povertà si sta... è una cosa spaventosa. De Luca non gode proprio al massimo della mia stima, perché è troppo un esibizionista, però tutto quello che fa Brodo, cercando di mettere fine a questa storia, noi non facciamo i negazionisti, ci mettiamo nelle mani degli scienziati e di chi è addetto. semplicemente c'è un problema, a Torre del Greco controlli zero, però pare che stamattina, per quanto vedo, la nuova ordinanza stia funzionando, perché vedo meno gente in giro. Lei è d'accordo con la reintroduzione della tua certificazione? Veramente la trovo una cosa leggermente stupida, perché lassù ci scrivi quello che ti pare. Abbiamo raccolto anche la denuncia sul caso di un medico risultato positivo al Covid, ed attualmente ricoverato. I familiari si trovano in isolamento domiciliare, abbandonati a loro stessi ed in attesa dell'intervento da parte dell'ASL. Vorrei approfittare della situazione per fare una denuncia. C'è la famiglia Piro a via Sedivola, il cui marito è medico di base, è ricoverato in terapia intensiva o subintensiva, non lo so, ma pare che loro siano stati lasciati a loro stessi dall'ASL. Per cui c'è una ragazza con la febbre e la famiglia è chiusa in casa e sopravvive grazie alla bontà delle persone intorno. Quindi magari se si può attivare l'ASL per questa famiglia e andare a fare un tampone a questa ragazza che ha la febbre, tutti quanti loro, sarebbe una bella cosa. Non accenna a placarsi l'ondata di contagi da Covid-19 che sta investendo l'intero paese ed in particolare la regione Campania, che ieri ha fatto registrare 9.312 casi. Numeri che preoccupano e che hanno spinto il governatore Vincenzo De Luca a firmare una nuova ordinanza che prevede la reintroduzione dell'autocertificazione per spostamenti interprovinciali e la richiesta di coprifuoco dopo le ore 23. Imposta la zona rossa nel comune di Arzano, visto il preoccupante andamento della curva epidemiologica. Nella città di Torre del Greco sono stati registrati ben 13 casi di positività. La nota del primo cittadino Giovanni Palomba fa sapere che si tratta di cittadini asintomatici, tutti sottoposti al regime di isolamento domiciliare. I attualmente positivi nel comune Corallino salgono dunque a 91, di cui 85 in isolamento e 6 ospedalizzati. Salgono i casi anche nel comune di Bosco Reale. Sono 30 tegli attualmente positivi, annuncia il sindaco Antonio Diplomatico, che rinnova l'invito ai cittadini di rispettare rigorosamente tutte le ormai note misure per contenere e diffondersi del virus. Boom di contagi anche nella città di Castellamare di Stabbia. 25 sono i cittadini, tra cui un bambino di 4 anni, una bambina di 5 anni e 5 ragazzi in età adolescenziale, che nelle scorse ore sono stati informati della positività al Covid-19, facendole evitare il totale degli attuali contagiati a 149. Positivo al tampone anche il sindaco della città di Portici, Enzo Cuomo. Il contagio potrebbe essere avvenuto al comune, dove abbiamo registrato la positività di due dirigenti comunali ed un assessore comunale, sostiene il primo cittadino, che nei giorni scorsi si era già preventivamente isolato. Fortunatamente, dopo qualche sintomo comparso, quando già ero in isolamento, posso dire di sentirmi quasi bene, rassicura sulle sue condizioni. Restano per il momento invariati i bilanci nelle città di Ercolano e Torre Annunziata, dove si conteggiano rispettivamente 72 e 68 casi positivi. La scuola come guida in questo momento di disorientamento. Così, questa mattina alle telecamere di TV City, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi, Olimpia Tedeschi, ha raccontato le difficoltà che sta affrontando la scuola, uno dei settori più colpiti negli ultimi tempi. Dopo l'ordinanza del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, la preside ha espresso il suo parere e si è detta ottimista per il futuro della scuola. Colpiti sotto il profilo della gestione sicuramente, perché tra le tante realtà territoriali, nazionali e locali, forse la scuola è un'isola felice, nel senso che attraverso questa organizzazione capellare che è stata fatta dai dirigenti scolastici, dallo staff, a partire dal mese di luglio, si sono riuscite a creare all'interno degli edifici quelle condizioni di sicurezza che garantiscono ai ragazzi il distanziamento sociale, l'uso delle norme anti-Covid, il divieto di assembramento, l'uso della mascherina. Quindi diciamo che eravamo partiti bene, eravamo partiti bene e onestamente nella scuola nostra, proprio in particolare la Giacomo Leopardi, fino a questo momento non ci sono stati nemmeno contagi o situazioni critiche. Certo, non dipende soltanto da noi e tutta l'atmosfera intorno che viviamo, che è critica, e quindi dobbiamo sperare che il contagio si fermi. Però adesso capisco anche quelle che sono le perplessità di alcune famiglie che hanno un po' paura, un po' timore di mandare i figli a scuola, così come capisco anche le direttive che sono state date a livello regionale per questa risalita dei contagi e quindi il governatore ha pensato di sospendere fino al 30 ottobre le attività, facendo poi riaprire successivamente quelle dell'infanzia. È un momento di disorientamento, però la scuola deve essere proprio in questo momento di disorientamento, una guida, un punto di riferimento per le famiglie, per gli alunni, per il personale, perché è quando c'è la crisi che viene fuori il senso di un'istituzione. Lei cosa ne pensa di questa ordinanza? Io obbedisco alla legge, perché per principio, come cittadino, come dirigente scolastico, figura pubblica, ho rispetto profondo per tutte quelle che sono le decisioni dello Stato, di cui io sono appunto membro. Penso che sia stato un atto prudenziale nei riguardi di quello che è questa situazione un po' critica, così come penso che c'è stato un cambiamento per quanto riguarda la situazione dell'infanzia, perché evidentemente il governatore si è reso conto che creava un disagio molto grande per le famiglie, perché bambini piccoli è difficile tenerli a casa da soli, è difficile farli partecipare a una didattica a distanza. Probabilmente a breve dovrebbero riaprirsi anche le scuole primarie. Siamo in attesa di avere delle delucitazioni più tranquille, definitive, verso la fine della settimana. Siamo pronti. Se dobbiamo riaprire, riapriamo. I docenti amano i loro studenti, quindi non gli fa paura venire in presenza. In questo contesto il vostro lavoro non sarà solamente quello di un'educazione scolastica attraverso la didattica, ma soprattutto un'educazione alla responsabilità. Sicuramente l'educazione alla responsabilità e in questo momento soprattutto è compito della scuola, così come della famiglia, così come di tutte le istituzioni pubbliche. E noi ci stiamo mettendo tutta. Abbiamo cominciato già dall'inizio, dai primi giorni di scuola, a spiegare il regolamento ai ragazzi, a fare appunto un corso approfondito attraverso i docenti, ma anche con la visione di filmati, su quello che significa essere responsabile delle proprie azioni, della propria salute e di quell'altrui. Poi accanto a tutte queste responsabilità ci sono le responsabilità del dirigente che in questo periodo veramente sono tante e diciamo non ci fanno riposare tranquilli. Qual è il messaggio che vuole dare a tutti i ragazzi? Io sono un'ottimista e sono un'educatrice prima di essere un dirigente. Quindi credo che la scuola sia fondamentale, sia preziosa, sia insostituibile, che la scuola fornimenti pensanti, che la scuola abbia il dovere di dare un contributo formativo e umano alle nuove generazioni. Questo compito è altissimo, è profondo ed è meraviglioso. Quindi la scuola ci deve stare, deve continuare la sua azione, non deve demordere e i ragazzi devono capire che devono venire a scuola e devono impegnarsi per il loro futuro. Slitta all'inizio del match tra Palermo e Turris di oggi pomeriggio allo stadio Renzo Barbera. La partita inizialmente in programma alle ore 15 è stata spostata alle 18.30, dopo che il club Rosa Nero ha diramato un comunicato in cui segnala che quattro suoi tesserati sono risultati positivi al Covid-19. La Lega Pro, dopo aver preso atto della situazione, ha stabilito lo slittamento di orario per consentire l'applicazione del protocollo previsto in questi casi. Da regolamento, la società siciliana ha potuto chiedere solo di ritardare l'inizio dell'incontro, ma non il rinvio adatta da destinarsi, in quanto questo può avvenire solo se una squadra dovesse avere a disposizione meno di 13 giocatori, portiere incluso, o se la partita fosse in programma in orario serale e quindi impossibilità di ascendere in campo nella data prevista, ma soltanto il giorno successivo. Nel caso in cui il Palermo decida di non presentarsi allo stadio, subirà la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete scriverci alla mail a redazione chiocciolatvcity.it oppure chiamare al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani con una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS